Un saluto a tutti da parte del team Vision Forex e dal sottoscritto Francesco Cerulo Finale di settimana, venerdì 21 aprile 2017, andiamo a vedere che cosa sta facendo il titolo Telecom Italia Siamo in diretta ovviamente 079.25 alle ore 17.04 e 30 secondi, quindi 25 minuti circa alla chiusura Allora, che cosa stavo guardando? Stavo guardando che comunque sia da un anno a questa parte Precisamente da, direi che lo start lo faccio partire con riferimento mio personale di questa analisi a luglio 2016 Noto come nei vari impulsi e nelle varie onde che hanno accompagnato su e giù il titolo Ci sia una certa voglia e forza di trovare una certa continuità al rialzo Rialzo ovviamente sul medio-lungo periodo, perché come potete notare magari qualcuno obietterà subito Eh sì, ma da dicembre a febbraio il titolo ha sottoperformato, perché è sceso da area 0.87 ad area 0.76 Quindi perdendo 10 centesimi, sì è vero, però se vediamo da dove è partito a luglio Qui eravamo abbondantemente sotto gli 0.70, precisamente in area 0.65 e 0.64 Poi abbiamo avuto pian pianino un apprezzamento Io nelle ultime sedute cerco di concentrare la mia attenzione quindi su quello che è successo nel 2017 Quindi dopo la sparata che c'era stata sul finale del 2016 a rialzo che aveva riportato a 0.88 le quotazioni C'è stata una fase di correzione piuttosto importante e profonda Vedete qua, questa zona, quest'area intorno al 0.76 ha visto l'inversione nuovamente a rialzo del trend Che aveva visto un ritorno a 0.86 circa, sfiorati precisamente Salvo poi vedere nella prima metà di aprile 2017 un nuovo downtrend di brevissimo respiro Bene, vedo che nelle ultime 4 sedute i prezzi stanno praticamente navigando intorno ad area 0.74 e, scusate, 0.77 e 60 E al di sotto degli 0.79 e 60, 79 e 70 Benissimo, vedete come io abbia preso anche un riferimento, diciamo che questo è un pochino più storico A 0.79 e 85, vado a concentrare proprio la mia attenzione su questo livello In quanto una mia discriminante verso una view bullish, quindi rialzista, passa proprio da qui Secondo me, nelle prossime sedute, quando e se accadrà un break al rialzo di tale livello Ci potrebbe essere un nuovo appesito da parte dei compratori 0.81 e 90, 0.83 e 40, i primi target rialzisti Al contrario, che cosa mi farebbe dubitare di tutto quello che ho detto fino adesso? Bene, una candela bullish con close al di sotto del minimo di questa settimana In area 0.76 e 25 Qualora si dovesse appunto presentare una candela del genere Ovviamente la view rialzista sarebbe totalmente annullata 0.74 e 40, lo vedete qua È il mio riferimento, il primo target ribassista Che individuo Poi ovviamente da lì ci potrebbe essere anche una profonda discesa Ma direi che al momento siamo abbastanza lontani da questo scenario Direi quindi di rimanere concentrati sul minimo settimanale E sull'area del 0.79 e 0.85 Per avere queste due discriminanti Al rialzo o al ribasso sul titolo Questo è quello che volevo dirvi sul titolo Telecom Italia In questa breve analisi flash Io vi ringrazio per la vostra cortesia e attenzione Vi rimando ad un buonissimo fine settimana Un saluto e alla prossima Dal sottoscritto Francesco Cerulo E da tutto il team Vision Forex Grazie a tutti